Si parla di nuoto, si parla anche di impianti. C'è stata la ripartenza in queste ultime settimane dopo l'emergenza sanitaria che comunque è ancora in atto. C'è anche una problematica degli impianti nel nostro paese e anche in Abruzzo. Insomma si sta ripartendo, però qualche problema per quanto riguarda gli impianti c'è ancora. Sì, è stata comunque una stagione un po' complicata, complessa, con tutte le restrizioni dovute ovviamente al contingentamento del Covid. Quindi in questo momento dove c'è una piccola ripartenza soprattutto per gli impianti all'aperto è ovvio che ci troviamo ancora ad affrontare delle problematiche rispetto a quello che è tutta la parte e tutta l'attività che ci andiamo un pochettino a ripristinare per la parte invernale. Quindi con gli impianti al chiuso. Da poco è uscito anche un nuovo decreto, quindi adesso ci sono ulteriori restrizioni e stiamo ovviamente con tutte le strutture, con tutte le associazioni, si sta costruendo quello che è tutto un iter nuovo da dover affrontare per cercare di non aggravare quella che è una situazione degli ultimi mesi e quindi poter mantenere gli impianti sempre aperti secondo le normative vigenti ovviamente. Tante società hanno avuto delle difficoltà, qualcuno purtroppo, dobbiamo dirlo, anche non ce l'ha fatta a superare questo momento e quindi è ovvio che da adesso in poi si spera che non ci possa essere di nuovo una chiusura come è stato nell'ultima stagione ma bensì riuscire a riprogrammare anche con un tempo un pochettino più importante rispetto a quello che sono magari a volte degli appalti o delle cose per poter riprogrammare un po' più serenamente quello che sono sia degli investimenti ma soprattutto ammortizzare quello che può essere uno sviluppo dell'impianto che ripeto ha dei costi di gestione e dobbiamo anche ricordarci che se un impianto è stato chiuso anche dei costi di riattivazione dell'impianto è comunque qualcosa di importante che grava sulle associazioni, sulle società che gestiscono direttamente l'impianto.